Musica In occasione della dodicesima edizione del Grand Tour dei Musei 2020 sul tema Musei per l'uguaglianza, diversità e inclusione, sono contenta di farvi conoscere un progetto importante che ha preso il via nelle nostre sedi museali cittadine e che ha permesso di sviluppare una riflessione sul fondamentale ruolo dei musei come luoghi di inclusione sociale in grado di promuovere la cultura dell'accoglienza e di permettere l'accesso al patrimonio per varie tipologie di pubblico. Musica 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 Il progetto Sensimus, visite sensoriali al museo, percorso inclusivo di visite museali rivolto a tutte quelle persone che per la loro fragilità spesso non riescono a godere appieno della realtà espositive e dell'offerta locale. L'ideatrice di questo metodo è un artista fabrianese, Mara Brera, che ha elaborato questo metodo multidisciplinare di arte e benessere e l'assessorato alla cultura e politiche sociali è lieto di promuoverlo. Musica 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 Musica